Le indagini sono state condotte, come abbiamo detto, dalle squadre mobili di Catania e di Ragusa sotto il coordinamento della direzione distretto antimafia di Catania. Abbiamo utilizzato sia dichiarazioni collaboratoriche, che in qualche modo hanno dato qualche indicazione e hanno fornito numerosi riscontri a quelle che poi sono state la chiave dell'attività di indagine, che sono state intercettazioni di tipo sia ambientale sia telefonico e tutta una serie di scontri sul territorio. Quindi indagini assolutamente complesse, come d'altronde capita in tutte le attività che hanno a che fare con la criminalità organizzata. Un solito pactum sceleris, direi, tra l'imprenditoria che si è, diciamo, in questo modo distinta negativamente è l'associazione mafiosa. Pactum sceleris è arrivato al punto di inglobarli all'interno dell'associazione. Quindi imprenditori che avevano vantaggi da un lato e che dall'altro, diciamo, riuscivano in qualche modo a estromettere da questo lucroso settore anche altri soggetti che magari erano nelle condizioni di poter svolgere il loro lavoro. Il pericolo per la salute pubblica sembra, diciamo, assolutamente escluso. Ci sono state delle attività che abbiamo fatto attraverso, in maniera congiunta, con altri enti. Quindi, come sempre, la Polizia di Stato opera anche e soprattutto in contesti di interagenzia, quindi con altri enti territoriali, specificamente deputati, diciamo, a questo tipo di verifiche e abbiamo avuto, sotto un certo aspetto, abbiamo avuto le conferme di quello che effettivamente è accaduto e quindi di quelle che erano le ipotesi investigative. Dall'altro, al momento, fortunatamente, non pare che ci siano, diciamo, problemi per la salute pubblica nell'immediato. Grazie a tutti.